Musica E ciao ragazzuoli mentre noi ci occupiamo di tattiche e cerchiamo di prendere nuove formazioni Stiamo qui su un nuovo commentary di FIFA 2012, come sempre purtroppo ho le mie due corri di Acemania Ciao Sentiamo la sua voce virile e di Ipti di Carra il capitano del nostro club, ciao Carra Ciao Allora, quest'oggi sempre su FIFA perché sappiamo che vi piace Fonto gli stessi dell'altra volta, non si sa perché avrebbe in casa gli stessi Abbiamo beccato gli stessi dell'altra volta e tra l'altro abbiamo le stesse maie di merda Per questo vorrei ringraziare Titi Carra Ah, tra l'altro se volete insultare Garra Joy fatelo nei commenti Tranquillamente proprio Ragazzi, io so il Rutto Ma perché sei andato verso l'interno? Perché pensavo che volessi correre Garra Perché non me l'hai passata, ho detto vabbè questo vuole gol Come non te lo passai? Eh no, troppo tardi, tiro a giro Prova, ottima parata Palla che finisce in angolo Bravo 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 Si è coordinato male e non è riuscito a dirgli il pallone come avrebbe voluto Oddio pazzia La pazzia del bot Simons Palla al compagno Oh stagliela Ma veloce madonna tua Ci metti una vita Sto sul secondo eh Si ok Ti è arrivato, ti è arrivato Un'anguilla e un'altra anguilla Stai tranquilla Sento puzza di gol E ci sarà la messa dell'estremo difessore Oh ma Mirko ma stai tu devi portare male nella partita Ma con chi sei? Tu chi sei? Tu chi sei? Tu chi sei? Tu chi sei? Bellissimo il passaggio Sei? Tu chi sei? I compagni devono solo cercare di smarcarsi Uno la dà ai smaniani Gli dice vabbè l'ho visto bene E se ne va L'hai visto bene? Tipo che ero messo benissimo Lo contrasta Nooo E' stato benissimo Anche lui Mi capo che non mi ha tirato in avanti Cioè me la dà indietro Con la porta in avanti No ho preferito tirartela davvero così Cioè è stata una cosa voluta Più che altro Trovo il compagno smarcato Tiro impreviso Tiro fuori Hai capito? Porfodio no No raga Stavo già dicendo Hai capito il cosa intendo per far spoglie Porca madossa maledetta Vabbè perché mi vuoi di che io da là non dovevo tirare a giro No 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 Devi passarla Ma che devo passarla? Ma stiamo scherzando Devi passarla anche Ma no ma là era da tirare Oh lì era da tirare Eh ti ho fatto Eh ho capito ma Ho dato un brivido Ho dato un brivido Ho dato un brivido Un brivido Interrompe l'azione Oh Oh Perché avete schiacciato b? Premessa laterale Io non ho schiacciato b Raga dovete tornare Ti appalla Oh Eh guarda tu sto Io sto in difesa Eh calla Ma valla a pigliarti Cioè Si stava chiedendo cazzi su E sto qua in area Non ho capito Sapete che torri Ma a me lo vogliela togli Ma a me quanto non mi piace sta paglietta Mi dirai E fa da barriera A spazio Ma questi Ma questi Non c'erano sui piedi Non so Brava E questi Spazzano Filla Oh mio Dio vai Ace, tiraci per la morte al cielo eh Ace scusa un attimo, Ace scusa un attimo, c'è uscito il portiere, c'è uscito il portiere Oh porco Dio ma ascolti, c'è uscito il portiere ed ero lì sotto a due metri Minchia me la davi sotto che c'è la porta a voi E' quello che sto facendo, eh oh minchia con la velocità di... Ma no, ma andava bene anche che tirava la garra Ma sì, ma sicuro, ma c'è, a me era per dirgli una soluzione Ma no, 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 anzi, non insultate garra gioia, sapete che insultare, non ve lo devo dire Ascolta un attimo una cosa, non andare vicino a quello sulla fascia, stai al centro, qui se la passa al centro So, vedi così, se la passa al centro Oh, mazza e bomba Contrasto riuscito, la palla arrotola via Brividi, 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 Dambor Simons Va bene, va bene Va benissimo, va benissimo Va bene pure così No, ma non va bene, perché se me la do abbassa ce la do bene io a te Si, no, no, ho capito quello che dicevi però Palla fuori Palla fuori Proprio dalla distanza E sbaglia tutto, palla sul fondo Che tiro di merda Ma non lo so, ma c'ho i tiri manuali, porco dio Quel po' Palla fuori La presa di Stingo Vagli davanti Palla fuori 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 Sul pallone Perchera Tira giro Mi contiene una fantasia Così Attenzione Omniodio Committee P ん Magna Martinez P прили Beimbo they have a problem They have a problem e sfuma l'azione Ale no no eh potevo far solo così passaggio intervista non ti aspettavi di saltarlo lo so che palla che è riuscito a intercettare scivolata da manuale di Michele gioco di passaggio non lo so perché l'ha data a lui io la volevo dare a te io la volevo dare a te non me la dare Ace che sono un fuorigioco vai bel cross occasione in vista me la dovevi dare prima Ace vediamo il tiro e il partito si può sorprendere ottima parata attenzione oddio oh 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 calcio champagne il secondo oddio oddio magari si sarebbe dato in realizzazione Simons bel contrasto vicino alla linea laterale nooo brutto fallo vediamo se ti non vede mai che bene il verico veri veri gud si è andata indietro perché mi credi ci vuoi dire che hai ragione si riprenderà con un fallo laterale è sempre lì va pressato non riesce a tenerla in campo ma non è stato da professionisti quanto vieni pagato? più da te sicuro Ace più dei colpi di... un contratto d'acciaio ma la Fox va pure da Wall Street serve benissimo il compagno ora deve buttarla via quello è fermo guarda è nabbo è nabbo io ho metà più o meno io ho metà più o meno no credo metà ma te l'ho chiamato te l'ho chiamato te l'ho chiamato che ancora potrebbe essere alta classe di gara attenzione solo e tra l'altro una cosa di cronica mi stanno pizzicando le zanzare passaggio riuscito commentate se odiate le zanzare perdono palla chi commenta e chi mette pollice in su non viene pizzicato fino al prossimo video palla larga oh mio dio mi hanno pizzicato attraverso i jeans oh mio dio mi prute trovo il compagno quando finisce questa partita che mi do una sana crattata recuperano un importante tagliela, tagliela, tagliela P Michele ma perchè non hai dato dire al mio il capposito di merda eh, mi hai raccontrato palla in rimessa laterale aspetta, aspetta, aspetta oh oh evita la marcatura con un numero palla che finisce in corner mettimela sul secondo caccia d'angolo battuta al volo palla fuori ancora che fai la mira il gioco riprenderà con una rimessa ma guarda che tirano da solo vogliono avanti che la fanno l'abbenschiata salva la propria porta nooo potevi dire raga come veniva veniva eh, c'hai ragione voglio fare il classico tiro di merda eh, da questo figlio di puttale io non so perchè ho notato che la fanno sempre sui calci d'angolo lunga Ace bravo più o meno oh e potrete scaturirne una palla a gol ok raga, ci ho provato ma la parata sul secondo sul secondo sul secondo guarda fai su più sulla banca eh, va bene va Ace una bomba fotonica una bomba ooooh oh mio Dio l'avevo vista dentro molto importante per loro ultimo tentativo comunque e dovranno cercare di sfruttare al massimo questa rimessa massima concentrazione e il difensore ferma l'azione nooo posizione in regola c'era a portare fuori dei pali guarda 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 però la volevo dare a te gara hai capito che cosa volevo fare si 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 eh, così ci tiravi tu ci saranno 5 minuti di recupero di Michele trova il compagno oddio la droga la droga la droga passaggio troppo prevenibile ma poi purissima la droga ma almeno si fa buona la fa buona cioè si fa di droga buona può metterla in acqua tu con l'angolo che mi salgono tutti e gliela toglie Alessandrini fischia l'arbitro che la partita finisce 1-0 un nuovo partita vinto un nuovo partita vinto un nuovo partita vinto grande Alessandrini ragazzi vi ringrazio per averci seguito provateci fin in fondo ciao